Benvenuti a Salotto Blu, grazie di essere con noi e molte grazie di essere venuti a trovarsi da parte del dottor Damiano Zoffoli, consigliere giornale della Mila Romagna, presidente della Commissione Territorio e Ambiente della Regione Mila Romagna. Posso dire orgogliosamente ex sindaco di Cesenatico? Certo. Perché se penso con la memoria indietro, io l'ho vista contenta molto quando lei era sindaco. Sì, penso che fare il sindaco per uno che ha la passione della politica è la cosa più faticosa ma anche più bella, perché tu per un po' di anni rappresenti la tua comunità, i tuoi cittadini e la politica nei comuni, nelle città è ancora più vera, cioè ha una faccia, ha un nome, ha un cognome. Tu incontri tutti i giorni delle persone in carne ed ossa, Giovanni, Francesco e con loro discuti dei loro problemi e cerchi di metterti al loro servizio. È un po' quello che manca spesso alla politica ad altri livelli, questa distanza, questa lontananza fra la politica e i politici e la vita concreta dei cittadini. Mi chiedo scusa, una notazione tecnica alla regia, preghiamo i nostri registi di attivare il timer della trasmissione, senta, stavo per chiamarla sindaco di nuovo, senta consigliere, a proposito di politica, in queste ore si sta decidendo un po' la sorte del Paese dal punto di vista delle istituzioni politiche. Quindi noi non sappiamo ancora se ci sarà una maggioranza di governo, se l'esperienza di Letta continuerà, se ci sarà un'altra situazione, una cosa la sappiamo. PD e PDL si trovano in un momento di grande transizione entrambi gli schieramenti. Lei, se non vado a rato, è un renziano dalla prima ora. Sì. Intanto cosa pensa del fatto che sono diventati renziani in tanti? Beh, intanto Renzi per prima dice che i renziani sono una malattia, quindi... però io penso che Renzi è un sindaco intanto, quindi ho una simpatia diciamo immediata per i sindaci, proprio perché vivono questa concretezza, no? Una politica che è fatta di idee ed è fatta anche di fatti e se alle idee non seguono i fatti, tu hai il cittadino che quando vai a portare come capitava a me, la spazzatura nel cassonetto, nel parcheggio di fianco a casa mia, ti ferma e ti dice, oh sindaco, buongiorno, ma nella via tal dei tali avevate detto che si faceva questo, è passato sei mesi, non è successo niente. E quindi io lo stimo per quello che sta facendo intanto a Firenze la sua città, credo che sia un sindaco coraggioso che sia assunto delle responsabilità, che ha fatto delle scelte, alcune affrontando anche dei contrasti, delle discussioni. E quindi mi pare che sia concreto, coraggioso, chiaro, che si capisce quando parla, no? C'è un altro problema della politica che si è inventato una lingua per addette ai lavori che si chiama politichese, no? Per cui i politici si parlano fra di loro e nessuno ovviamente li capisce. Quindi già, secondo me, mettere in campo oggi una dose di coraggio, perché per cambiare, e questo Paese ha bisogno di un cambiamento radicale e profondo, ci vuole un gran coraggio. Bisogna rischiare, la politica ha perso la dimensione del rischio, della scommessa, della sfida. E rispetto ai nuovi problemi inediti, a questa crisi che non finisce mai, abbiamo bisogno di gente che si mette in gioco, che rischia qualcosa. E ha bisogno di parlare un linguaggio chiaro, cioè ha bisogno di farsi capire. E credo che appunto queste siano le qualità di quel sindaco e di quel politico che ha capito, diciamo, che prima di altri forse, che questo Paese ha bisogno di discontinuità rispetto ad una stagione di vent'anni, tutta giocata su questa dinamica, Berlusconi sì, Berlusconi no, rispetto alla quale non riusciamo ancora ad uscire la drammaticità di queste ore, di quel che sta succedendo. Quindi abbiamo bisogno di uscire da questo schema. E questo è certo. Però mi scusi, da questo spiego meglio la domanda. Un anno fa di questi tempi avevo l'onore di avere qui tanti esponenti regionali importanti del PD, anche qualche esponente nazionale, e i renziani si contavano sulle dita della mano. Lei era uno di questi, direi d'ho altro. Adesso sono diventati tutti renziani, o comunque si dichiarano renziani. Ma questo è, come posso dire, non è anche questa una forma di malattia della politica, insomma, quello di correre sempre vicino a colui che si presume possa essere il nuovo leader? Intanto da un anno a questa parte sono successe alcune cose. Ci sono state delle primarie, fatte nel campo del centro-sinistra, vinte da Bersani. Renzi le ha perse, però ottenendo un risultato, secondo me, straordinario, anche in Emilia-Romagna, anche nei nostri territori. Le ha perse anche frutto di regole che hanno in tutti i modi cercato di ridurre un po' la partecipazione della gente. Ma da quelle primarie poi è scaturita una sconfitta elettorale. Cioè nel febbraio scorso il PD ha preso poco più del 25%, che è il peggior risultato da quando esiste, diciamo, l'ulivo, il PD stesso, il centro-sinistra, figlio dei partiti di prima. Mi riferisco alla Margherita, mi riferisco ai DS. E soprattutto un partito che ha un elettorato che è quello tradizionale della sinistra. Penso soprattutto ai pensionati, penso al pubblico impiego. Un partito che non riesce a parlare ai ceti produttivi, alle partite IVA, ma quel che mi preoccupa di più è ai giovani, agli studenti, ai disoccupati, che hanno trovato in grillo, diciamo, nel Movimento 5 Sterle, il modo di esprimere un disagio, una sfiducia, una protesta. Renzi aveva visto giusto, aveva detto semplicemente che il centro-sinistra e il PD doveva puntare sul cambiamento. Quindi parlare a tutti gli italiani, anche per esempio ai delusi di Berlusconi, del centro-destra, e quando faceva questi discorsi veniva considerato addirittura un fascistoide, abbiamo sentito anche questi termini. Comunque la sconfitta è stata una sconfitta drammatica e purtroppo la crisi attuale è figlia anche di quella sconfitta. Senta, Serenzi... Allora, per rispondere più alla sua domanda, cosa è successo? È successo che i nostri elettori, anche gli iscritti, il popolo del PD si è stufato letteralmente di perdere e prima di molti dirigenti che adesso si professano renziani, penso al popolo, diciamo, delle feste dell'ex unità per intenderci, ha scelto Renzi, ha scelto il cambiamento. Per cui molti dirigenti non fanno altro che in questa fase di adeguarsi a quello che è un comune sentire anche dei militanti. Senta, se Renzi diventasse segretario del partito, cosa cambierebbe immediatamente? Beh, intanto ci sarebbe secondo me una valorizzazione degli amministratori, lui l'ha detto e dichiarato, cioè di chi vive la politica del faccia a faccia, per intenderci. Poi mi pare che abbia messo in luce un'idea della politica più coraggiosa, aperta, anche un'idea di partito meno fondato sui funzionali, sulla burocrazia, di qui la sua idea di abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, almeno così come l'abbiamo vissuto, quindi di una politica più sobria, meno costosa, meno di apparato. Credo che soprattutto darebbe al PD quella identità che purtroppo questo partito non ha avuto, cioè questo partito è nato sette anni fa con la crisi, all'età della crisi economica, ottobre 2007 c'erano i primi segnali e i partiti di prima hanno detto di fronte a questa crisi, a queste novità, noi siamo inadeguati, c'è bisogno non di un altro partito, ma di un partito nuovo, c'è bisogno del PD, un'intuizione straordinaria per cambiare appunto l'Italia. Purtroppo questa sfida è una sfida che è oggi incompiuta, ma l'idea è ancora quella, cioè c'è bisogno di un nuovo modello di centro-sinistra che per esempio rispetto al tema del lavoro, che è il tema centrale, che è la vera emergenza, abbiamo visto oggi anche i dati, 40% di disoccupazione giovanile, c'è bisogno di prospettiva, di futuro, c'è bisogno di speranza. Ecco mi spieghi, però il partito democratico di Renzi, adesso facciamo questa ipotesi, se non vorrei portare sfortuna, è naturalmente la candidatura di Renzi, però è largamente probabile che Renzi diventi segretario del partito, in tema per esempio di alleanze, perché le cose non si possono fare da soli, a meno che il PD non abbia una maggioranza così, secondo lei con chi potrebbe allearsi dello schieramento che vediamo, una ridizione delle larghe interi, interese, SEL, il movimento di Grillo? Intanto Renzi ha rilanciato con forza l'idea della vocazione maggioritaria, che non significa appunto immaginare l'autosufficienza a un partito del 51%, però un partito robusto, forte, è un partito che va dal di là degli schemi rigidi a cui è confinato, storicamente, prima facevamo un'analisi di chi vota oggi il PD, c'è bisogno di aprirsi, di rendere questo partito più attrattivo anche per i tanti delusi che ci sono in Italia, i delusi del PD, ma i delusi del PD, ma i delusi, cioè tutti quelli che hanno votato Grillo, molti che hanno votato Grillo, allora lui immagina un partito diciamo di centro-sinistra europeo che cerchi per esempio di tenere assieme il concetto dell'uguaglianza, della solidarietà, delle pari opportunità, che sono i concetti tradizionali della sinistra, con il tema per esempio del talento e del merito, cioè la centralità della persona. Ne ripariamo fra un paio di minuti consigliere, ci fermiamo, guardiamo insieme gli spot di belle aziende romagnole, state con noi. Consigliere, diciamo prima cosa potrebbe fare Renzi qualora diventasse segretario del partito, e però questa ipotesi di una candidatura di Renzi alla segreteria, in qualche modo dal punto di vista della tempistica, dal punto di vista delle cose effettivamente possibili, anche dei processi normali di quello che sta succedendo in Parlamento, che non è normale affatto quello che sta succedendo in Parlamento, è compatibile con quale tempistica di un richiamo elettorale? Cioè se si vota fra tre mesi per capirci, spiegiamo ai nostri spettatori, Renzi ci arriva a diventare segretario, oppure se si vota fra un anno, oppure se si vota si va a fine legislatura, cambia? Beh, intanto il Partito Democratico ha approvato le regole dopo una lunga discussione per il Congresso, cioè noi l'8 dicembre abbiamo le primarie aperte a tutti gli italiani che si riconoscono nei principi, nei valori, nel messaggio del centro-sinistra e del PD, e quindi l'8 dicembre abbiamo previsto le elezioni del nuovo segretario, Renzi è uno dei candidati, entro l'11 ottobre devono essere depositate le candidature, ci sono anche i nomi di Cuperlo, di Civati, di Pittella, questi sono i nomi ad oggi in campo per questa sfida. È chiaro che se la situazione precipita, precipita vuol dire un'ipotesi che io non auspico, perché vorrebbe dire andare a votare con questa legge elettorale, senza un'incertezza sulla legge di stabilità, è chiaro che quell'appuntamento diventerebbe l'appuntamento non per la scelta del segretario nuovo del PD, ma per la scelta del Premier, cioè chi il Partito Democratico e il centro-sinistra, scelto dalle primarie, candida alla guida del Paese. Io credo che noi speriamo che ci siano le possibilità di farlo questo Congresso, perché Renzi ha capito una cosa, non vuole fare la fine di Prodi, Prodi è arrivato al governo due volte del centro-sinistra senza un partito alle spalle e puntualmente è stato abbattuto diciamo politicamente anche dal fuoco amico, soprattutto, diciamo pure soprattutto, perché ormai... e quindi Renzi ha capito che se vuole governare... non basta vincere le elezioni per governare e soprattutto non basta neanche governare per cambiare l'Italia, perché l'Italia ha bisogno di essere rivoltata come un calzino, è un Paese che da vent'anni non cresce, quindi alla crisi gravissima mondiale che dura mai da 6-7 anni siamo arrivati con una condizione di mancata crescita che addirittura partiva dal decennio precedente. Per cui è chiaro che bisogna proprio fare delle scelte forti, radicali e questi si possono fare solo se hai in democrazia un partito alle spalle. Senta, lei di partenza è un odontoiatra, è un medico, intanto, fa ancora un po', si dedica un po'? Adesso no, adesso no. Però se le viene uno e le dice, scusi dottore ho mal di denti, lo lascia in mezzo alla strada col mal di denti o...? No, naturalmente metto a disposizione quelle che sono le mie competenze, le mie conoscenze, quindi cerco di indirizzarli e di aiutarlo come posso. La medicina si dimentica? Sai cosa mi viene a mente? Proprio questo di chiederle. Cioè lei è un medico, lo spiego, lei non è un odontotecnico, è un medico, un odontoiatra, quindi ha studiato medicina e si è dato la professione. Lei quando è in consiglio regionale, in quelle noiose sedute del consiglio regionale, che le dico la verità, io mi addormenterei in cinque minuti, lo dico con molto rispetto, ma conosco le lungaggini, no? C'è una certa liturgia, diciamo, della qualità. Sì, quegli interventi che durano 38 minuti e tu hai già capito al primo minuto come vanno a finire, insomma. A lei, al di là della sua bella famiglia, le sue figlie, sua moglie... Tra l'altro ha una figlia che studia odontoiatria. Esatto. Per scelta sua. Non le viene mai in mente, non so, il suo esame di istologia? Spessissimo, mi viene in mente spessissimo, perché poi la vita di tutti i giorni ti mette in relazione con le persone, quindi con le difficoltà, comprese le sfide, diciamo, sanitarie, no? La salute e quant'altro. Ma soprattutto, diciamo, nella professione del medico e anche, secondo me, nella professione, nell'impegno politico c'è questo desiderio di fondo, no? Di comunque mettersi a servizio della persona, cioè di aiutare, diciamo, gli altri. Poi non sempre si riesce, poi ci sono i limiti personali, poi ci sono le difficoltà. Però credo che c'è questa attitudine, cioè l'idea che la propria vita non la devi spendere solo per te o per i tuoi amici o i tuoi familiari, ma anche aprirti agli altri. Senti, a proposito di sanità, se non vado a rateo, con questo neologismo micidiale che hanno usato gli amici della carta stampata, sta nascendo la uslona, che, non so, tanto ricorda la Luisona, la famosa, la celebre pasta dei racconti di Benny, no? Poi traferiti nel film, no? Di Pupiavati, insomma. Ma allora si fa l'ausa unica della Romagna? Beh, io credo di sì, credo di sì, siamo ancora in una fase di confronto, di dibattito, ma non si può dire che questa sia una scelta però improvvisata, perché già la Romagna, che pure dovrebbe di gran lunga accelerare su delle politiche di sistema, no? Ha già messo in comune le quattro aziende sanitarie romagnole, hanno già dei servizi comuni, pensiamo al laboratorio di Pieve Sistina, no? Pensiamo al 118, pensiamo a tutta una serie di razionalizzazioni delle specialità. Siamo a metà del guado e di fronte alle nuove sfide, ai nuovi problemi, la vita che si allunga e quindi il problema dell'invecchiamento della popolazione, l'immigrazione, il tema della sostenibilità economica, cioè noi abbiamo un sistema sanitario di qualità, ci è riconosciuto a livello... Che però costa circa l'80% del bilancio regionale. Del bilancio regionale, soprattutto noi siamo di fronte per la prima volta ad un taglio proprio in termini assoluti delle risorse, cioè noi praticamente in tre anni il Fondo Sanitario Nazionale si riduce di 17 miliardi, per la nostra regione significa un miliardo e mezzo, 300 milioni per il 2013. Abbiamo tutta un'altra serie di questioni che sono alle porte, no? Perché c'è già il tema di un possibilità di ticket di nuovo aggiuntivi, si parla di 2 miliardi a livello nazionale per il 2014, c'è il blocco dei contratti della sanità da tre anni, il blocco dei turnover, ogni 10 infermieri che vanno in pensione ne vengono sostituiti tre, quindi abbiamo l'aumento dell'IVA di queste ore che per la sanità un punto più di IVA significa 20 milioni di euro per la sanità emiliano-romagnola, il passaggio dal 21 al 22 per le tecnologie, per i costi delle attrezzature, quindi siamo di fronte a anche se, a dire il vero, il nostro paese spende meno, ad esempio della Francia e della Germania in sanità, il 7,4% del PIL meno di 2 mila euro per abitante. Quindi il problema per la sanità italiana non è che spendiamo troppo, il problema è intanto l'Italia è lunga e stretta, quindi c'è un problema anche di valutare le varie regioni, le varie situazioni, ma di migliorare la qualità della spesa. Quindi in sanità secondo me non ci vogliono i tagli lineari, politiche sbagliate fatte da questo punto di vista, non ci vogliono le forme ma ci vuole il bisturi, no? A proposito di sanità. Senta, bisogna, ecco, in questa cornice nasce appunto il progetto dell'Asia. Però non voglio fare questa domanda, l'Aus Unica presuppone una direzione unica, mi sembra di capire. Allora, senta, questi manager della sanità, cioè i direttori delle singole ASL, parliamoci chiaro, ti chiedo scusa, non vorrei mancare di rispetto a nessuno, però sono già molto potenti, guadagnano già moltissimo, non mi piace fare il quanoquismo, ma se penso a quello che guadagna un grande dirigente della sanità rispetto a quello che guadagna una persona che va a lavorare in un'azienda privata, a rischio tra l'altro di non trovare il posto il lunedì mattina quando va a lavorare, insomma qualcosa è un po' da calibrare. Adesso noi facciamo un direttore unico che diventa onnipotente, primipotenziario e come fa a rispondere un direttore unico alle agenzie del territorio, le faccio un esempio, di Gambettola, di Meldola, di Montiano, di Saludecio, insomma c'è una distanza siderale fra chi guida la sanità e le comunità locali. Dunque intanto la nostra sanità è oggi un sistema in qualche modo partecipato, cioè parlare di sanità in Emilia Romagna significa parlare di medici, quindi di operatori della sanità, di sindacati, di cooperazione sociale, di cooperative, di associazionismo volontariato, di comuni, di enti locali, di province, cioè noi abbiamo già dei luoghi oggi di integrazione per esempio sociosanitarie, i famosi distretti, cioè le scelte che noi facciamo sono già scelte in qualche modo discuse e dibattute, è chiaro che le linee di indirizzo sono in capo alla conferenza sociosanitaria, quindi ai sindaci in sostanza e agli amministratori. Il ruolo dei manager, dei direttori sanitari è quello di gestire sulla base però degli indirizzi e delle scelte che fa la politica. che fa la politica. Le faccio una domanda, lei è stato sindaco di Cesena, tra l'altro il comune è molto importante, poi lei era un sindaco molto attivo, molto in grado, ma lei era in grado di in qualche modo intercettare e condizionare le scelte del direttore dell'AS di Cesena? Allora, chiaramente ho parlato di... Sto parlando di un sindaco importante e di un comune importante. Sì, sì, ho parlato di conferenza sociosanitaria perché c'è una collegialità diciamo in questa gestione politica della sanità. Io credo che un sindaco abbia la possibilità, adesso richiamava il caso, io ho discusso anche animatamente rispetto a certe scelte che erano dibattute, discusse che riguardavano nella fattispecie la comunità di Cesena, quando c'è stata la razionalizzazione degli ospedali, dei reparti e per fortuna, mi viene da dire, in questa regione si sono fatte a suo tempo alcune scelte, penso anche all'aspetto ospedaliero, perché in sanità non c'è il punto zero, cioè o tu vai avanti o tu torni indietro, perché le tecnologie, le nuove tecnologie sono molto costose e sono indispensabili. Per cui io credo che questo modello partecipato debba essere rafforzato in quella scelta, non indebolito. Ci fermiamo, un paio di minuti consigliere, state con noi. Grazie di nuovo di essere a Salotto Blu con il consigliere regionale Damiano Zoffoli, ex sindaco genatico, medico, don Togliate, l'abbiamo parlato. Senta, lei ho letto ultimamente che si è occupato anche di treni e di trasporti. Scusi, lei cosa ci azzecca con i trasporti, mi spieghi? Anche se c'è un gran bisogno che qualcuno se ne occupi. No, nella mia commissione si discute anche di trasporti e in particolar modo abbiamo predisposto il bando, un bando addirittura che ha una prospettiva ventennale, quindi importante, per rinnovare i treni regionali. Quindi andiamo a cercare un privato, quindi a livello un bando europeo, quindi italiano o straniero, disponibile ad investire sui nostri treni. Quindi stiamo parlando di un bando che vale 150 milioni di euro, proiettato nei 25 anni, superiamo i 3 miliardi. A questo nuovo gestore chiediamo però investimenti in nuovi treni. Noi abbiamo bisogno di rinnovare due terzi del parco treni, mi riferisco ai treni regionali, abbiamo bisogno di treni nuovi e in questo investimento ci sta, secondo noi, nuova occupazione, perché i treni vanno materialmente costruiti e ci sta quello che è indispensabile, un miglioramento del servizio, un servizio più puntuale, decoroso e quindi questa è la sfida che abbiamo di fronte. A proposito dei trasporti, mi viene in mente di chiederle questo, la via Emilia-Bis, allora il dibattito acceso è questo, c'è chi vorrebbe costruire la via Emilia-Bis di collegamento ad esempio fra Forlì-Cesena, sto pensando al Presidente della provincia di Forlì-Cesena, Bulbi, e chi è dichiaratamente il contrario come il sindaco di Forlì, Balsani. Lei come si colloca? Il tema secondo me è questo, che da quando uno immagina, pensa un'opera pubblica e quando la vai a realizzare purtroppo per una ragione di burocrazia e di soldi passano decenni, penso al casello del Rubicone, opera straordinaria, importante, ci sono voluti vent'anni per realizzare quel nuovo quesale. Nel frattempo le dinamiche, i bisogni cambiano e si modificano. Io credo che secondo me quell'opera avrebbe ancora un senso, perché permetterebbe, poi c'è il versante Cesenate e il versante Forlivese, nel Cesenate per esempio di immaginare l'attuale via Emilia riservate alle biciclette, ai pedoni, ai movimenti locali e quindi di immaginare tutta una riqualificazione di interi comparti della stessa Cesena. Probabilmente Forlì ha una infrastrutturazione diversa, c'è comunque un problema di capitali e di risorse, quindi anche in questo caso bisogna mettere assieme gli obiettivi con le risorse. A proposito di Forlì e Cesena, consigliere, lei è notiziato, immagino, scherzo naturalmente, del fatto che a Forlì e Cesena si vota la prossima primavera, inizio d'estate. Lei riconfermerebbe i sindaci di Forlì e Cesena? Sono due sindaci al primo mandato. Io credo che la legge dei sindaci sia perfetta, anzi Renzi lo dice, io sono d'accordo con lui, parla di sindaco d'Italia, ci vorrebbe un sistema elettorale anche per il nostro paese dove chi viene eletto per cinque anni ha la garanzia di governare. C'è un limite di due mandati, per cui dopo dieci anni comunque a casa e quindi il sistema funziona. Io credo che saranno i cittadini a decidere ovviamente che dieci anni siano il tempo giusto per mettere in campo proprie idee, energie e quindi forse cinque anni sono insufficienti, cioè dieci anni è il tempo ideale. E questo, devo dire la verità, la mia opinione conta nulla ma condivido la valutazione che si dà di Paolo Lucchi o di Roberto Bazzani, però il suo partito, il PD, ha questa idea fortissima delle primarie e quindi è probabile che sia Lucchi che Bazzani debbano passare al vaglio delle primarie, credo che sia così il ragionamento. Io credo che un sindaco non deve temere le primarie, se ha ben governato, sia ben amministrato, avrà il riscontro dei cittadini. Ecco e qui ci sta, mi interessa la sua opinione, proprio il dibattito sulla forma partito. E cioè qualcuno dice, ma alla fine a scegliere se il sindaco va confermato o meno deve essere una classe dirigente che si prenda delle responsabilità, non sempre il meccanismo delle primarie per cui sostanzialmente nasce un flusso di idee immediatamente, quindi candidature giovanilistiche o comunque candidature che essendo vergini si presentano sempre con una chiave abbastanza positiva rispetto a chi ha 5 anni di amministrazione. Ma io su questo sono invece convinto che le primarie siano una conquista, diciamo, nella politica di oggi, così lontana, ripeto, dai cittadini, quelle sono comunque un momento di grossa mobilitazione e partecipazione. Tutte le volte che questo strumento è stato attivato la gente è andata ad esprimersi, ha partecipato. Chiaramente il partito deve dare un giudizio sui propri iscritti. Questo mi sembra normale, infatti mi risulta che in queste federazioni i due sindaci in carica sono valutati prima dal partito, poi ci sarà, se ci sono competitori, ovviamente il passaggio delle primarie, perché ci devono essere altri candidati. ma devo dire che io confido molto sulla saggezza del cittadino, cioè gli italiani, gli elettori sembrano distratti, stufi della politica, disinteressati, però dietro ad ogni dato, ogni risultato politico, ogni vittoria, ogni sconfitta, ci sta una realtà. E spesso la politica non l'aveva capita, non l'aveva vista prima e se ne accorge dopo, cioè se ne accorge dopo quando i numeri vengono dichiarati, quando le schede si aprono. E quindi io ho fiducia ancora nel cittadino che comunque, quando io sento quella frase, gli elettori non ci hanno capito o si sono sbagliati, veramente mi cascono le braccia. In democrazia gli elettori non si sbagliano mai. Quindi secondo me il compito dei politici e della politica è quello invece di restituirgli credibilità. Credibilità. Senta, torniamo su Renzi, da dove abbiamo cominciato la nostra trasmissione, poi tanto sa che lei ci viene a trovare quando vuole, quando lo ritiene opportuno, quando non è a tempo e quindi rimane a tempo per tante cose. D'Alema, con la sua consueta, tradizionale, ormai, come posso dire, classica, battuta di spirito dice, Renzi pensa che amministrare l'Italia sia come amministrare un condominio perché dice, lui vuole continuamente rimanere sindaco di Firenze, insomma, lei rispetto a questo tema, cioè delle scelte di Renzi di poter fare o non fare esclusivamente segretario del Partito Democratico, cosa pensa? Beh, indubbiamente fare il segretario di un partito nazionale, eccetera, è un impegno molto oneroso e quindi io sono convinto che alla fine Renzi farà una scelta rispetto a una strada o l'altra, anche perché appunto io su questo concordo ancora una volta con Renzi, credo che il lavoro da fare per cambiare questo partito sia tanto e quindi bisogna dedicarci con una certa energia. Senta, perché in realtà la domanda che avevo fatto prima era una sottodomanda rispetto all'ultima che le vorrei fare, se me lo consente. Perché Renzi di fatto non è proprio digerito da quella parte del Partito Democratico che, adesso tagliando un po' con l'accetta, viene dall'ex mondo del PC? Beh, intanto anche lì c'è stata, c'è una evoluzione, ma penso che ancora in quel mondo lì non ci sia stata quella frattura, quel momento di discontinuità, come è avvenuto per esempio negli altri partiti di tradizione socialdemocratica europea. Penso all'esperienza di Blair in Inghilterra. E quindi c'è ancora un ancoraggio forte alla tradizione che alla fine, in concreto, rispetto a come cambia e si modifica la società, significa porsi in una situazione di conservazione. C'è molta conservazione dello status quo, mentre noi abbiamo bisogno di cambiare. Però io credo che in realtà anche in quel mondo, diciamo, le cose stiano cambiando. E il fatto che Renzi, poi lo vedremo, se ci saranno le sfide delle primarie, oggi venga considerato favorito, vuol dire che molti, tanti, che stanno cambiando opinione anche su di lui. Così era stato un piacere, come sempre, averla con noi. Spero che lei sia trovato a suo agio, spero se è fatto di sì. Torni a trovarci presto. Grazie. Intanto è un po' che l'uomo per avere tutte le sue belle cose, cominciato dalla sua bella famiglia e dalle sue figlie, di cui ricordo una foto e mi ricordo che erano tutte belle come la mamma, fortunatamente. Fortunatamente. Possiamo fare un saluto alle sue figlie, mi ripeti come si chiamano. Benedetta e Beatrice e la mamma Fiorenza. Tutti i nomi, come posso dire, che ricordano la beltà, insomma. Firenze, Fiorenze, è vero. Lei ancora non sapeva di essere, di diventare Fiorentino Noris Cause. Beatrice, poi. Alle ragazze e alla signora, raccomando di aver pazienza sopportare il babbo. È duro, ma... Grazie. Mi perdono degli scherzi anche legati all'ambiente familiare, con grande cordialità ovviamente. Alla prossima, consigliere. Senz'altro, grazie. Qui vedete un indirizzo di posta elettronica, se la regia lo manda in onda, se no allo stesso. Ecco, russomannomario54.com, voi lo frequentate già assiduamente. Quello che voglio garantirvi è che se ci date suggerimenti e critiche, sono io di persona che vi rispondo. Sapete che andiamo in onda tutte le sere alle 23, alle 8 del mattino, alle 14 del pomeriggio successivo in replica, più state con noi, più ci aiutate a raccontare la nostra meravigliosa terra. Grazie. Grazie.